sulla legge elettorale ai cittadini non venga anche riconosciuto alle stesse cittadine e cittadini con una legge sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro. Noi su questi temi la incalzeremo con determinazione e a viso aperto, senza alcun pregiudizio. Grazie. È iscritto a parlare il deputato Di Battista, a cui ricordo che ha due minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Peccato non è presente il Ministro Alfano perché parliamo di giustizia. Ministro Cancellieri, mi rivolgo a lei. Siamo felici che una donna come lei possa diventare Ministro della Giustizia. La supporteremo se farà battaglie per la legalità e la proteggeremo da eventuali attacchi delle mafie. Saremo con lei se toccherà gli interessi di quei gruppi di potere che hanno trasformato i cittadini in sudditi. Noi siamo qui per suggerire le azioni di governo, per indicarle percorsi che non possono non prescindere dalla strada tracciata dalla Costituzione. Una Costituzione che tutela l'autonomia della magistratura, un obbligo che deve seguire alla lettera, disinnescando l'assurdo conflitto con la politica che perdura da vent'anni da quando Berlusconi, purtroppo non Cesare Beccaria, è sceso in politica per occuparsi dei suoi problemi mettendo 60 milioni di italiani in un mare di guai. Noi del 5 Stelle non difendiamo i magistrati Tukur. I magistrati sono uomini, gli uomini sbagliano e gli errori sono in buona o cattiva fede, Ministro. Noi difendiamo il ruolo sacrosanto della magistratura. La sosterremo se vorrà rivedere il piano carceri. Troppe persone che hanno commesso reati di serie B sono in galera, mentre i colletti bianchi che hanno contribuito alla crisi viaggiano sotto scorta. Questo è intollerabile, Ministro. Lei lo sa benissimo. La invitiamo quindi ad impegnarsi in un programma di depenalizzazione dei reati a bassa pericolosità sociale e a una politica dura nei confronti di quei criminali che falsificano i bilanci, che corrompono, che legiferano nonostante le loro condanne. Il falso in bilancio va in asprito, Ministro, per favore. Lei sa cosa succede a chi falsifica un bilancio negli Stati Uniti, un Paese portato ad esempio da tanti che le siedono accanto. Oggi la corruzione ci costa 60 miliardi all'anno. Si immagina, Ministro, quante imprese potremmo salvare con questo denaro? Quanti cittadini disperati potremmo aiutare, magari attivando quel... Deve concludere, Deputato. Concludo. Presente negli altri paesi europei. 60 miliardi all'anno, 15 volte il gettito IMU. Riflettiamoci tutti, a cominciare da lei, Ministro. Se lei si batterà per l'indipendenza della magistratura, se lei stessa si dimostrerà indipendente, noi non soltanto la sosterremo, ma la chiameremo con orgoglio Ministro della Giustizia. Buon lavoro. La ringrazio. È iscritto a parlare il Deputato Pisicchio, a cui ricordo che ha tre minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà. Grazie, Onorevole Presidente, Onorevole Presidente del Consiglio, Onorevoli colleghi. Anch'io, prima di esprimere la mia considerazione di adesione e di pieno consenso al Governo che nasce, desidero rivolgere un commosso pensiero di solidarietà ai carabinieri colpiti e, in particolare, a Brigadiere Gian Grante e alla sua famiglia. Credo che nessuno in quest'Aula possa immaginare di brandire questo doloroso evento come un argomento polemico nei confronti di fazioni o movimenti, quasi ad evocare un qualche meccanicismo tra causa ed effetto. Tuttavia è fuori dubbio che il linguaggio della politica oggi ha raggiunto toni grevi e intollerabili, anche a voler considerare le dialettiche più aspre. E il linguaggio rappresenta la forma stessa della politica. Le parole non sono mai separate dal loro effetto. Dunque, se un insegnamento può essere tratto da questo doloroso evento, è sicuramente un monito per tutti ad abbassare i toni e ad operare per la pacificazione del Paese e per il suo buon Governo. Il Governo Letta si presenta come la migliore espressione di un esecutivo politico, a ridosso di una competizione elettorale che non ha definito i confini di una maggioranza, che fosse espressione dell'autosufficienza delle coalizioni presentatesi al cospetto degli elettori. Il percorso di collaborazione è necessaria tra forze e politiche.